La malocclusione è un'alterazione della morfologia e della relazione tra le osse macellari e anche riguarda la posizione dei denti. È una situazione che si verifica molto frequentemente nei bambini dal momento che l'uso di alimenti molto morbidi diminuisce lo stimolo funzionale, meccanico, che in natura veniva data dalla mazzicazione di alimenti molto duri, molto usuranti. Questa mancata ginnastica della mandibola nel corso dell'accrescimento ha determinato, determina un iposviluppo delle ossa che devono contenere tutti i denti che madre natura ci ha dato. Il risultato di questo è che molto spesso noi ritroviamo nei nostri bambini una anomalia, ripeto, o nella relazione tra l'osso macellare, che sarebbe quello che contiene l'arcata di sopra, e la mandibola, oppure una malposizione dei denti. Queste patologie, queste diciamo così anomalie, possono essere corrette tanto meglio quanto più si identifica precocemente la presenza di una malocclusione o meglio i fattori che la determinano. Vale a dire che una visita, un esame clinico molto precoce e soprattutto una informazione alla mamma, alla famiglia su quei fattori che possono determinare l'insorgenza di una malocclusione, sono fondamentali per non ritrovarci poi a 6, 12 e più oltre anni con delle bocche che non hanno una corretta funzione. La prevenzione di queste malocclusioni si basa su, diciamo, il ripristino delle normali funzioni del viso, non lo chiamiamo splanchnocranio, fin dalla primissima età. La prima cosa è una respirazione corretta, una suzione corretta, quindi l'allattamento al seno è un fattore che può aiutare moltissimo la giusta formazione delle ossa macellari e una masticazione corretta. Corretta che cosa significa? Significa che dando degli alimenti in maniera graduale, via via, più duri, più consistenti, obblighiamo il bambino a esercitare una funzione masticatoria, che è quella che ci è propria, che modulerà la crescita dei macellari sia in quantità, in modo che lo sviluppo sia, diciamo, completo, tanto da contenere tutti i denti, sia come qualità, vale a dire come armonia e funzione della mandibola sul macellare.